3-0 col quale il Martina ha sbancato il comunale di Catanzaro, secondo in classifica, è un capolavoro tattico di Roberto Chiancone, l'apoteosi del tutti per uno, uno per tutti. Il tecnico martinesi, in attesa della laurea in medicina, sta meritando quella di stratega del calcio a Martina. Nonostante la grave assenza di Berti, lui che ti fa? Lo sostituisce con Pizzulli, che non è propriamente un incontrista, e conferma il poker d'assi del gol, con Piccioni e Calcagno larghi sulle fasce, Mitri e Prisciandaro più interni. Ti aspetti un Catanzaro arrembante a divorare spazi, ed ammiri invece un Martina quadrato che non concede nulla, se non uno sterile possesso di palla, ai pur generosi calabresi. La spinta del Catanzaro si infrange puntualmente sulla linea Maginò eretta da Chiancone, e quando non ci arrivano i difensori, ci pensa Micio Mauro Antonio a fare i miracoli. C'è il sole a Catanzaro, ma anche un vento freddo che non preoccupa il tifoso storico Mandarino, che prima della gara sfoggia un monopezzo da Ferragosto. 500 gli impareggiabili martinesi disposti in curva sud a farsi sentire molto più dei 4.000 circa calabresi. A soffrire alla fine e a gioire con loro c'è il passionale presidentissimo, avvocato Gianfranco Chiarelli. E proprio nella porta della curva martinese, Gioacchino Prisciandaro scalderà i cuori biancazzuri con una doppietta da rapace del gol. Il Martina fa capire subito l'antifona. Dopo 11 minuti, Reggio Acchino si ritrova davanti a Gentili e lo batte inesorabilmente. Cinque minuti dopo, però, il direttore di gara, Gian Millaro di Messina, vede un fallo da rigore inesistente su Moscelli ed assegna il tiro dagli 11 metri. Moscelli, vice bomber del girone, si fa ipnotizzare da Micio Mauro Antonio che respinge con sicurezza. Il Martina attende il Catanzaro, poi velocissimo schizza in contropiede, mandando spesso in tilt i difensori giallorossi. Se ne accorge subito il tecnico bitetto che tira fuori dopo appena 22 minuti il centrale zappella ed inserisce l'ex campo basso Minadeo. La mossa non cambia granché la sostanza perché il Martina odierno è un computer programmato alla perfezione e l'unica volta che va in crash è il 28esimo e il palo a riaccenderlo. Con un cardinale eccellente in fase di interdizione, davanti alla difesa ed intelligente nelle ripartenze, gli esterni fanno un figurone, in particolare Piccioni, che tenta anche la via del gol al 37esimo, ma il suo tiro, in onore al suo cognome, viaggia in cielo. Subito dopo, al 39esimo, Pizzulli, ottimo al rientro, rovescia in area un bel pallone che Hulk Prisciandaro sbatte rabbiosamente in rete strappando applausi anche agli sportivi calabresi. E' il 2-0 e siamo solo nel primo tempo, ma l'impressione è quella di un Martina che non può tradire, che sa soffrire ed ha voglia di vincere. Quando le squadre stanno per andare a riposo, Mauro Antonio ricorda a tutti che la maglia numero uno della nazionale di Cigli spetta di diritto ed aggiunge l'ennesimo miracolo alla collezione con una parata super sullo pinto. Si chiude il primo tempo ed i 500 tifosi martinesi si riscaldano improvvisando una torcida brasiliana. Si raffredda invece dopo il doppio svantaggio catanzarese il tifosissimo mandarino che finalmente indossa la maglietta della salute in tinte giallorosse. La ripresa è l'apoteosi del calcio fatto sostanza, del raziocinio che diventa cinismo, insomma è l'immagine del Martina squadra leader. Il Catanzaro continua a sbattere la testa e va al tiro solo su azioni individuali come al settimo, quando Corazzini fa fare gli straordinari a Micio Mauro Antonio. Poco dopo ci prova anche il suo collega Alfano che sbarra gli occhi di fronte all'ennesima prodezza del ventenne numero uno martinese. Il Martina non si disunisce mai e quando Sottili commette un errore che può costar caro, i compagni vanno a rincuorarli quasi fosse un esordiente diciottenne da proteggere. Anzi quando c'è da riproporre la squadra parte decisa inserendosi nelle ampie praterie della difesa giallorosso e al venticinquesimo parte Piccioni, prende il pendolino e si invola sul binario Mancino. Poi uccella il portiere calabrese con un tiro cross smorzato da un difensore. 3-0 per il Martina e partita chiusa? Non ancora. C'è il tempo per assistere ad un altro atto della beatificazione di San Mauro Antonio che nega la gioia del gol al bravo Moscelli e l'opportunità del poker martinese quando Prisciandaro va dentro, salta il portiere che lo mette giù. Il re dei bomber accontentandosi della doppietta concede il favore all'astinente Orazio Mitri a secco da sei domeniche che però si fa parare il penalty da Gentili. Nulla di grave, i martinesi sono contenti lo stesso, anche se Mitri non ha segnato, oggi ci riuscirà la prossima volta. Ormai si è capito che questo Martina può contare non solo sui soliti noti, Mitri e Prisciandaro, ma si sta dimostrando una squadra ed un gruppo che oltre a segnare è capace di far sognare i suoi impagabili tifosi. Intanto giunge il quinto successo consecutivo e l'opportunità di scavalcare il Giuliano fra non molto in classifica, ormai la distanza è di un solo punto. Gioacchino, che effetto fa a essere il bomber più prolifico d'Italia? 17 gol, hai anche scavalcato cugino Cristian Riganò? Sono contento per la mia prestazione e i gol che ho messo a segno oggi, però io ringrazio la squadra che mi ha dato la possibilità di fare questi gol. Poi su un campo come quello di Catanzaro, che non ci avevo mai giocato, ho fatto una doppietta, indimenticabile per me. Tra l'altro hai sbagliato anche un terzo gol all'inizio, che forse ti stavi mangiando un po' le mani. No, 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 il vento me l'ha allungato un po', poi ho cercato di alpionare sul destro per calciare sul sinistro, ho sbagliato il controllo, però la colpa è del vento. Avete giocato da grande squadra, non avete concesso niente al Catanzaro, che è stato generosissimo, però sino all'ultimo minuto avete giocato su tutti i palloni. Ma noi sapevamo la forza del Catanzaro, secondo me l'abbiamo presi noi contro il piede a loro, che siamo partiti subito alla grande, siamo stati fortunati anche sul sorteggio della monetina, perché c'era il vento e lì ci siamo giocati la partita, perché può essere strano, però secondo me l'abbiamo vinta lì alla monetina, perché ho scelto testa e è uscito testa. Il vostro è un gruppo grandioso, si è visto quando Sottili a un certo punto ha perso palla in area e si stava allontanando un giocatore del Catanzaro verso il forzo portiere e Sottili è stato incoraggiato. E poi un altro gesto dove sei stato protagonista tu, che hai lasciato l'incarico del calcio di rigore a Mitri, anziché farti la tua tripletta. Ma sull'episodio di Stefano Sottili capita, perché siamo umani, siamo uomini, capita di sbagliare. Lui ha sbagliato in un momento che stavamo 2-0, ci ha andato bene che Mauro Antonio si è superato lì, però questo è il nostro gruppo e va bene così.